Si è visto che questa grossa dimensione che aveva ottenuto la banca privata finanziaria e la Banca Unione nascondevano in effetti operazioni tali per cui si era consumato il patrimonio e si è arrivati a un depice di 150 miliardi. Non sarei mai stato un sindoniano, ma non ho mai nemmeno creduto che lui fosse il diavolo in persona. Queste sono tutte le società del gruppo sindonico, quasi tutte le società del gruppo sindonico. Sono società vere oppure cosa sono? Questa è la capogruppo. La capogruppo. Di che valore? Direi negativo addirittura. La capogruppo. Grazie a tutti.